Mi raccomando, teniamo duro questi tempi che presto teneremo sul campo. Nel frattempo rispettiamo le regole e solo così ne possiamo uscire. Mi raccomando, fate come me, restate a casa. Ciao ragazzi, mi raccomando, forza e coraggio, restiamo uniti, sicuramente andrà tutto bene, non è un momento facile, lo sappiamo, è un momento particolare per tutti. Mi raccomando, restiamo a casa, uniti e sono sicuro che poi ripartiremo più forti di prima e riusciremo a vincere anche questa partita tutti insieme. Forza Lume, andrà tutto bene. Ciao ragazzi, se vogliamo tornare il prima possibile sul campo da allenarci, dobbiamo restare a casa e sicuramente andrà tutto bene. Ciao a tutti, devo dirvi che andrà tutto bene. Restiamo uniti, ma soprattutto restiamo a casa. E' passato questo momento difficile, torneremo più forti di prima. Andrà tutto bene, forza Lume. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, ora più che mai, stiamo a casa, per tutelare noi stessi e tutte le persone che vogliamo bene. Non vogliamo. Andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupo. Andrà tutto bene, forza Lume. Ragazzi, andrà tutto bene. Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che andrà tutto bene, di non mollare e soprattutto restiamo in casa. E' la cosa fondamentale che torneremo più forti di prima a divertirci su ogni campo. Ciao a tutti, questo è un momento difficile per l'Italia, dobbiamo restare a casa e andrà tutto bene. Non molliamo, forza Lume, forza Italia. Ciao a tutti, è un brutto momento, l'importante è restare a casa e andrà tutto bene. questa vita all'infinito, amo l'infinito in questo. Daio e Lume ce la faremo, distanti ma uniti. Di piangere bambina non è finita, finché non è finita. Resta a casa, forza Lume. Forza ragazzi, tutto andrà bene, sono sicuro. Forza Lume, tutto andrà bene. Un momento molto difficile per tutto il mondo e mi sento dire ai ragazzi di rispettare le normative che sono state messe in atto. Quindi ragazzi, rimaniamo a casa, andrà tutto bene e poi torneremo a risultare tutti insieme sul campo. Ciao ragazzi, spero state bene. E' un brutto momento che passerà presto. L'importante è essere uniti e stare a casa. Forza Lume, forza Italia sempre. In questo momento così difficile dobbiamo stare tutti uniti e sono sicuro che tra un paio di sette umane ricomincieremo a ricalcare quel bellissimo momento erboso che su tante soddisfazioni ci ha dato e ci darà. Come si dice Andri? Tutto? Tutto andrà bene. E te andrà bene. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. In questo momento di particolare difficoltà cerchiamo di rimanere uniti, pensare alle cose che ci rendono felici e atteniamoci alle disposizioni. Andrà tutto bene. Forza ragazzi. Forza ragazze. Forza Lume Zane. Forza Lume, tutto andrà bene. Ciao ragazzi. Mi raccomando, state a casa e sempre Forza Lume. Questo è il periodo di battaglia dalle nostre ragazze. Come una squadra questa partita la facciamo insieme. Restiamo a casa e verrà tutto bene. Oh vele. Oh vele. Oh vele. No mi raccomando. No mi raccomando. Oh vele. Oh vele. Grazie a tutti.